Buongiorno a tutti, sono con Andrea Gilli e Mauro Gilli, primo docente di studi strategici alla Università di St. Andrews e Mauro invece ricercatore in tecnologie militari a pochi tecnico di Zurigo, non solo ospiti insomma di riguardo ma anche amici del canale che ringrazio di essersi insomma prestati per questo che sarà un video di analisi non tanto insomma dei programmi elettorali di politica estera fra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti Kamala Harris e Donald Trump ma una chiacchierata per ragionare effettivamente su quali sono gli scenari, capire un pochino a che bivio ci troviamo sui principali issue di politica estera, chi segue insomma qualsiasi idea di Israele o in particolare forse Ucraina il tema nato sa che chiaramente c'è attenzione per il futuro della politica americana in base al presidente che verrà eletto, abbiamo dei precedenti storici, abbiamo chiaramente la presidenza Biden appena passata, abbiamo anche una presidenza Trump precedente, abbiamo moltissima speculazione negli ultimi giorni, nelle ultime settimane la maggior parte insomma dei grandi quotidiani o delle riviste specializzate come Foreign Policy e Foreign Affairs sono lanciate in analisi su appunto quali sono i possibili scenari in base a chi verrà eletto, quasi tutti i giornali dei paesi diciamo caldi come per esempio Israele, come l'Ucraina fanno analisi sugli scenari elettorali rispetto al proprio paese e volevo appunto parlarne con Andrea e Mauro per provare a fissare un po' di punti potenziali per capire diciamo a che bivio ci troviamo davanti sapendo che quando verrà eletto l'uno insomma non avremo il counterfactual dell'altro. Intanto vi ringrazio di nuovo, ringrazio chi ci ascolta, ricordo a tutti di mettere like per permettere ai nostri contenuti di raggiungere più persone possibile. Partiamo con una macro domanda che è questa, dove vedete i principali punti di differenza ma anche di somiglianza in base a dichiarazioni ma anche in base alle prassi rispettivamente del governo Biden di cui Harris è stata vicepresidente e al track record di Trump come presidente degli Stati Uniti rispetto a Israele in particolare e in particolare nel contesto di quello che appunto è stato il post 7 ottobre e l'attuale situazione tra Israele e il Libano. Sì beh questo è ora chiaramente il teatro più difficile per la presidenza americana e lo vediamo dal insomma da alcuni sondaggi che nei mesi passati davano appunto, facciano vedere come in alcuni collegi, in alcune zone ci fossero proprio problemi in termini di consenso per i democratici per via della politica estera americana e il supporto direi incondizionato di Israele. Se non ricordo male la settimana scorsa o due settimane fa in Michigan Kamala Harris è stata interrotta più volte proprio da spettatori che erano presenti al suo discorso che criticavano appunto l'approccio verso Israele. Tutto questo è un po' indicatore di quello che probabilmente sarà il futuro di una presenza democratica e da questo punto di vista quindi direi che le differenze nell'approccio verso Israele sarebbero ragionevolmente limitate. Chiaramente un politico come Netanyahu avrebbe una preferenza per avere una presenza repubblicana perché questo sarebbe molta più mano libera ma insomma di paletti degli Stati Uniti e Israele ne hanno messi comunque pochi, questo lo vediamo in termini concreti nella fornitura di armi che non è mai stata interrotta e dunque anche se ci sarebbero delle differenze tra il una presenza democratica e un'americana direi che su grandi linee sarebbero molto molto vicine o comunque non andrebbero a cambiare uno dei pilastri chiave della politica esteroamericana in Medio Oriente che è appunto il supporto verso Israele. Non so se Andrea vuole aggiungere altro. Sì aggiungerei solo che le differenze che io vedo sono e sono d'accordo sul fatto che Israele rimane e rimarrà il principale alleato degli Stati Uniti nella regione. La differenza che io vedo è nell'approccio nel senso che quanto sottolineava Mauro prima ovvero sui fischi di Kamala Harris immagino da sostentori del Partito Democratico che sono più vicini alla causa palestinese che però allo stesso tempo l'elettorato democratico storicamente include una parte consistente della popolazione di religione ebraica negli Stati Uniti. Quindi il 7 ottobre dal punto di vista della politica domestica americana ha fatto perdere consensi al Partito Democratico da due gruppi opposti. Quelli che dicono dobbiamo dare più supporto a Israele e quelli che dicono ne stiamo dando troppo. E questa è una debolezza che probabilmente rimarrà e si potrebbe esacerbare. E sempre in Michigan Trump ha portato un gruppo di imam o comunque capi della comunità islamica sul palco qualche giorno fa che dicevano noi siamo per la pace e Donald Trump è il presidente che porterà la pace. Quindi questo è interessante. Qua secondo me si va alle differenze. Il problema che vedo nei democratici della loro politica estera nell'ultimo anno ed eventualmente con una presenza Harris e che sarebbe molto molto vulnerabile alle insidie interne. Quindi se noi guardiamo questo anno ogni due settimane c'era qualcuno dell'amministrazione che diceva c'è stato il fuoco vicino, gli ostaggi stanno per essere liberati e poi sistematicamente c'è stato il fuoco, non c'era, gli ostaggi non venivano liberati. Ed era questo tentativo di fare una politica estera verso Israele che fondamentalmente era più dettato da un'agenda domestica che non di politica internazionale vera. Quindi significa calcolare gli interessi, l'equilibrio regionale e altri fattori. La mia impressione è che Trump da questo punto di vista sia probabilmente più libero anche perché alla fine gli accordi di Abramo, quelli che aveva fatto Trump con l'aiuto del genero, non sono stati scartati dall'amministrazione Biden e nel libro di Woodward che è uscito qualche giorno fa si dice addirittura come i principali paesi arabi che erano parte di quell'accordo erano totalmente a favore di Israele nel colpire Hamas che vedono come una minaccia. Quindi pubblicamente non prendevano molta distanza ma privatamente davano sostegno a Israele ed altrimenti alcuni di questi paesi poi hanno aiutato Israele stesso nel difendersi dall'attacco missilistico dell'Iran dello scorso aprile. Quindi la differenza quale sarebbe? Secondo me sarebbe di forma che però poi può anche andare a influire sulla sostanza. Penso che i democratici se dovessero vincere la presidenza si troverebbero con una politica singhiozzo dovuta a delle eventuali resistenze interne mentre Trump sarebbe più autonomo nel dire sostengo Israele, porto una pace regionale che include i palestinesi in un modo o nell'altro, che porti tutti i paesi arabi a riconoscere Israele e in questa maniera isoliamo l'Iran. Questo ovviamente posso aver torto però questa sarebbe la mia valutazione. Una delle cose che è il motivo per cui è fondamentale poi le domande farle a voi, che avete una prospettiva che è di lungo periodo, che è basata appunto sul passato, è basata sulla pratica, che chiaramente i toni di Harris e Trump sono talmente diversi che spesso e volentieri si rischia di prendere differenze di tono per differenze di policy. Nel senso che, prendiamo ad esempio, Trump di recente si era lamentato degli elettori ebrei che non votano per lui, sostanzialmente dicendo che chi non vota per lui letteralmente vota per il nemico, perché lui non ha abbastanza voto ebraico rispetto appunto a tutto quello che ha fatto per gli ebrei, come dicevi tu, si parlava degli accordi di Abramo, ma insomma anche il riconoscimento delle alture del Golan. Anche lo spostante del riconoscimento di Gerusalemme come capitano. Esattamente, quindi Trump diciamo parte come il più filo israeliano probabilmente degli ultimi candidati, nonostante il contesto americano, si era chiaramente quello di Susegni Israele. Allo stesso tempo la Harris non può troppo, come dire, premere sul tema della difesa, del diritto alla difesa di Israele perché sa di avere un elettorato che chiaramente è molto più sensibile anche alla causa palestinese, tant'è che è significativo che molte dichiarazioni della Harris siano proprio sulla sofferenza del popolo palestinese, molto più anche di quanto facesse Biden, proprio a segnalare comunque per l'elettorato ovviamente una maggiore sensibilità che poi potrebbe non tradursi in grandi differenze di policy. Mi pare che in realtà su questo entrambi condividiate che forse non è il dossier su cui si intravedono potenzialmente più differenze. Io penso che Trump sarebbe molto più sostenuto nel supporto a Israele, però la differenza non è che Biden non ha sostenuto Israele, è che ripetutamente ha fatto queste dichiarazioni sul non andate a Rafah, non aiutate, tenete in considerazione le vittime civili, gli ostaggi verranno liberati che erano un po' in contraddizione con la politica di fondo, che secondo me servivano principalmente a scoppi elettorali. Io non sono esperto di dinamiche elettorali negli Stati Uniti, però penso che una parte significativa dell'elettorato di religione musulmana negli Stati Uniti o comunque dei gruppi di minoranza importanti siano proprio nel Midwest, quindi in Michigan, in Wisconsin e la popolazione somala, sia se non mi sbaglio, in Minnesota principalmente, e che sono proprio the rice bell dove in alcuni di questi si giocano le elezioni, cosa che rende tutto ciò particolarmente delicato per Kamala Harris. Sì, e da questo punto di vista per me è interessante un aspetto, come anche quando Harris è stata, durante interviste veniva chiesto esplicitamente la sua posizione, quasi veniva sollecitata a criticare Israele, la prima parte della risposta era sempre che Israele ha il diritto a difendersi alla luce dell'attacco del 7 ottobre. Questo per dire che comunque il Partito Democratico si trova di fronte proprio a quello che descrive Andrea prima, ovvero avendo questo elettorato che è molto polarizzato su un tema che non è riconciliabile insomma e si trova con grandi difficoltà, quindi deve da una parte dire all'elettorato di religione ebraica, no noi siamo con Israele, il diritto di Israele a difendersi non è in discussione, ma allo stesso tempo qua vengono queste dichiarazioni pubbliche fatte più volte e nell'ultimo anno deve anche criticare Israele perché insomma cosa è successo in questo anno a Gaza e a parte anche in Cisciordania e nelle ultime settimane anche in Libano insomma è abbastanza chiaro. A questo punto mi sposterei sul dossier Nato Russia-Ucraina, dico anche per il nostro pubblico che chiaramente delle cose che stiamo dicendo, in particolare insomma delle dichiarazioni di Harris e Trump, troverete insomma una ricca lista di fonti in coda al video, quindi insomma tutto quello a cui facciamo riferimento, a cui fanno riferimento i nostri ospiti insomma lo troverete anche in formato long sia su diciamo riviste con paywall sia senza per permettere un pochino a tutti di farsi un'idea. Mi muoverei a tutto quello che forse è il tema dove invece potenzialmente ci sono differenze più rilevanti, almeno percepite, dove almeno si teme insomma che ci sia la possibilità di un forte shift di policy, oppure magari mi contraddirete che appunto il tema non solo diciamo del sostegno all'Ucraina ma forse proprio della posizione dell'America nella Nato io lo allargherei, insomma abbiamo parlato spesso con voi di Nato e mi piacerebbe in realtà prenderla un pochino più alla larga. A questo punto vi chiedo se insomma ci possiamo aspettare che nel bene e nel male con Harris diciamo la posizione americana rispetto alla guerra in Ucraina in particolare ma in generale la posizione americana nella Nato possa andare in continuità con quella che abbiamo avuto con Biden. Cosa vedete diciamo con un'ipotetica presidenza Trump considerando che almeno sul dossier Nato abbiamo già insomma atti e dichiarazioni di Trump come presidente e che sul dossier Ucraina sostanzialmente la posizione di Trump è stata in un giorno insomma risolverò la guerra pur non fornendo mai chiaramente una posizione e aggiungo anche per lasciarvi poi insomma andare fuori da libera su questo, tiene alla realtà dei fatti la dichiarazione di Trump di essere un presidente che non ha mai iniziato guerra e che ha sempre sostanzialmente al di là dei toni cooperato per la pace. È una cosa credibile. È un tema complesso. Io direi un po' di cose. In primo luogo che dopo quasi tre anni dall'inizio della guerra bisogna ammettere che la politica estera di Biden rispetto all'Ucraina non è stata granché nel senso che dopo tre anni gli aiuti militari sono arrivati col contagoccio lentamente con le restrizioni accettando anche in pubblico e questa cosa più surreale tutto questo gaslighting fatto da Mosca e da Putin e dalla Russia che mi sembra abbastanza surreale. Lo dice uno che comunque era positivamente sorpreso e sosteneva le fasi iniziali della guerra. Però bisogna ammettere che se fossero state date molte più armi da subito all'Ucraina qualcosa sarebbe cambiato. Qua torniamo a un discorso più generale dove, questa è la mia opinione personale, la questione di Trump o Stati Uniti in Nato, Russia è un po' più complessa. Nel senso che in primo luogo l'amministrazione Obama ha sempre dato pochissime armi all'Ucraina dal 2014 fino al 2016 e anche prima del 2014. Trump è il primo che avalla il trasferimento di armi più pesanti all'Ucraina e aumenta anche gli stanziamenti a favore di quella che si chiama EDI, che non è per Equality, Diversity and Inclusion, ma sta per European Deterrence Initiative, che va a cercare di rafforzare il fianco est della Nato. Trump mette anche le sanzioni su Nord Stream, il gasdotto adesso che è stato sabotato probabilmente dagli ucraini un anno fa. E questo è Trump che diceva parallelamente all'Europa una cosa molto semplice, che la Russia è una minaccia, sì o no? Perché se è una minaccia voi dovete smettere di comprare il gas e il petrolio da loro, dovete smettere di vendere a loro tecnologie, soprattutto per la manifattura, macchinari per produrre anche armamenti e parallelamente dovete aumentare la spesa militare, perché se è una minaccia, la minaccia non la aiuti a crescere e soprattutto ti prepari ad affrontarla. Se non è una minaccia, e questo era quello che diceva Trump, allora io porto le mie truppe, le riporto a casa. Trump secondo me stava semplicemente bleffando, sapeva perfettamente che la Russia è una minaccia, ma voleva che gli europei spendessero di più. E comprassero di meno. Se comprassero di meno, eventualmente comprassero anche più armi americane, però comunque spendessero di più in difesa e comprassero di meno, comprassero di meno dalla Russia e vendessero anche meno macchinari. E allora ci ricordiamo tutti i più grandi intellettuali, molti dei quali sono riciclati a favore della Nato, a favore dell'Ucraina, a favore della deterrenza, lo prendevano in giro. Dicevano che questo era pazzo, era cretino, non sapeva di cosa stesse parlando. C'è un video dei diplomatici tedeschi all'ONU a New York che letteralmente rigodono di quando, penso, o l'ambasciatore americano all'ONU a New York, non era testa stessa. Ridono proprio come dire, ma di cosa sta parlando? Sì, da spiegare, perché quel passo era l'apertura dell'anno dell'Assemblea Generale dell'Assemblea Generale. E Trump sostanzialmente dice, cioè voi comprate il gas e il petrolio dalla Russia. La Russia usa questi soldi per farsi delle armi e io poi devo… No, e usa questi soldi per comprare macchinari con quali produce armamenti e che poi voi dite che sono una minaccia per l'Europa e quindi io devo aiutarli. Quindi o voi iniziate a comprare il gas dagli Stati Uniti e a spendere di più in difesa, oppure la vostra, questa paura. E questi si vedono proprio come… Che ridono come se fosse un idiota. E purtroppo uno può pensare a quello che vuole di Trump, ma Trump aveva ragione. Questo è il punto centrale. E arriviamo, secondo me, senza farla troppo lunga a due punti fondamentali. Uno su Trump e le guerre, due su Trump e la Nato cosa farebbe? Allora, secondo me è generalmente vero che Trump è stato comunque l'unico presidente dal… ma non so da quanti anni obiettivamente, perché sto pensando Obama? No, le guerre le ha fatte. Bush? Le guerre le ha fatte. Clinton? Le guerre le ha fatte. Bush padre? Le guerre le ha fatte. Reagan? A suo modo le guerre le ha fatte. Forse Carter? Ma no, Carter comunque ha… forse potrebbe essere Carter, quello il primo che non ha fatto delle vere e proprie guerre. O Carter, o Ford, o Nixon, ma andiamo indietro quindi di… Per Nixon no, insomma. Beh, Nixon la continuate, ha cercato il chiude. La stessa era la Cambogia, insomma. Ok. No, però comunque andiamo quindi indietro i 40 anni a chi non aveva fatto delle guerre. Perché quello che Trump ha fatto aveva detto… Reuters dice Carter e Ford oltre a Trump, se prendiamo il… iniziare nuove guerre come parametro. Questo dove lo trovi, scusa? E Reuters stavo provando a guardare… Eh, esatto. Il criterio è delle guerre nuove non iniziate, diciamo… Ok, io vedo un po' di storia della politica esteroamericana, me la ricordo. E quindi andiamo indietro di 40 anni. Ed è fondamentalmente corretto. Si va di che il non iniziare una guerra di per sé non è che sia un non merito, perché a volte la guerra è uno strumento di policy che serve per altri fini. Purtroppo, quello che abbiamo visto nel corso dei decenni passati, soprattutto Bush, figlio e Obama, le guerre iniziate sono state devastanti. in particolare penso all'Iraq, che oramai è evidente, sia stata una catastrofe. L'Afghanistan soprattutto per come è stata gestita e Obama penso soprattutto alla Libia e anche al ritiro come è stato organizzato dall'Afghanistan. E quindi a quel punto di vista… All'Iraq, Obama. All'Iraq. Sono abbastanza accordo. E poi arriviamo… Ma Trump potrebbe finire la guerra in un giorno? Io su due piedi, conoscendo alcune delle persone che potrebbero far parte di una eventuale nuova amministrazione, guardando anche un po' il suo approccio negoziale negli anni, io non penso che sarebbe così facile. Probabilmente cercherebbe di spingere l'Ucraina ad accettare perdite territoriali importanti, ma il problema non è tanto quello, secondo me. Il problema vero, che è la ragione per cui si continua a combattere, non è solo o principalmente della perdita di territori, è anche di come mantenere la pace dopo. Perché oggi l'Ucraina accetta di perdita di territori attualmente sotto controllo russo e potrebbe anche farlo, a prescindere dalle questioni etiche, morali e politiche. Il problema è, ma noi come facciamo ad assicurarci che domani la Russia non attacchi di nuovo? E per questo ci vuole una deterrenza solida e forte. Fare questa cosa qui è un po' più difficile. Ciò detto, io penso che il metodo negoziale di Trump, da questo punto di vista, sia più efficace di quello di Biden, che dice pubblicamente «Ah no, non attaccate con le nostre armi i punti nevralgici». Lei è comunque il territorio russo, che dice, l'ho detto stamattina su Twitter, «Le truppe nordcoreane uccidetele solo quando barcano il confine». Sono comunque delle dimostrazioni di debolezza estremamente forti che non aiutano la causa ucraina. Mi fermo qua, non so Mauro se vuole aggiungere. Sì, aggiungo un paio di considerazioni tentando di seguire uno schema più o meno logico. Allora, primo sono assolutamente accordo su quello che hai detto tu all'inizio, sulla debolezza o sui problemi della politica estera e politica estera di difesa americana nei confronti dell'Ucraina. Insomma, le linee rosse, aver rispettato all'inizio le linee rosse, è stato qualcosa di devastante per tantissime ragioni, ma che tutto per quelle che vediamo sul capo di battaglia. Cioè, alla fine, i sistemi d'arma sono arrivati, che fossero i carri armati, che fossero i missili a lungo raggio, che fossero tutto quello che si vuole, i sistemi di difesa antiaerea. Insomma, quelli, gli ucraini lo chiedevano il primo mese della guerra e sono arrivati dopo più di un anno. Quello è stato assolutamente devastante. È stato devastante perché, insomma, come io dico ai miei studenti, la Russia, da un punto di vista strategico, è stata vincente. Cioè, solo con delle parole. Quindi il costo finanziario, il costo in rubli della politica di, non è deterrenza, in quel caso si chiama di coercizione russa, cioè la minaccia che se voi fate qualcosa noi raggiamo, è stata estremamente efficace, ad un costo bassissimo. Cioè, la Russia, solo parlando, solo facendo delle minacce, ha ottenuto quello che voleva, o meglio. Almeno ha rallentato, ma in alcuni casi addirittura impedito, la fornitura di determinati stemi. Pensiamo alla stessa cosa del GF-16. Ora, il GF-16 non avrebbero cambiato nella controoffensiva, nella fase iniziale della guerra, ma avrebbero aiutato. Questo è un punto cardine. Quindi, quel fallimento per me è centrale. E con questo mi ricongiungo un po' alla discussione che ha fatto Andrea sia su Israele che ora sull'Ucraina. C'è un problema centrale dell'amministrazione Biden. Questo era vero anche in parte per quello Obama, però, insomma, concentriamoci sul presente. E questa necessità di parlare a due anime profondamente diverse. Quello, nel caso di Israele, l'abbiamo già vista. Nel caso della politica ucraina, del caso ucraino, sono uno, quelli che possiamo chiamare i liberal internationalists. Cioè, quel gruppo di, intellettualmente, le persone, non so, che possono riferirsi, uno alla Kennedy School of Government di Harvard, a quella che una volta si chiamava Woodrow Wilson School di Princeton. C'erano quello che è l'elita americana. Esattamente. Esattamente, esattamente. Quindi, da una parte, e che poi però si riflette, non solo nell'elita, c'è anche parte della popolazione, comunque, noi, middle, high, middle class, che comunque ha delle posizioni che hanno dell'overlap. Dall'altra parte c'è quel frangente del partito democratico o comunque della sinistra americana, che praticamente ha posizioni poi isolazioniste, ormai esattamente come la destra estrema. Cioè, questi non sono i nostri problemi, ritiriamo le truppe, questo è un problema, uno, dell'Ucraina, due, se proprio volete, degli europei. Gli europei sono ricchi e si devono occupati. E qua sorge il grande problema. E poi, chiaramente, in questa fascia, cioè parte di questi isolazionisti di sinistra, fanno poi il proprio bagaglio, è tutta quella retorica, rischio nucleare, eccetera, eccetera. Quindi la politica di Obama è sempre stata tra il, per seguire una politica che è quella dei liberal internationalists, tentando però di tenere buoni gli isolazionisti di sinistra. E questo crea dei mostri che sono quelli che diceva Andrea. Mentre Andrea parlava, mi è venuto un'aneddoto recente, che per me è una roba pazzesca, un, non ricordo più, qualche quotidiano, ha riportato l'indiscrezione, forse tra l'altro dal libro di Woodward, che non mi ricordo più, secondo cui, ad un certo punto, comunque nella fase iniziale della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti avevano fonti di intelligence per cui ritenevano l'uso di armi nucleari tattiche, molto probabile. Ora, io non voglio mettermi a criticare nessuno, ma l'idea che l'intelligence fosse arrivato a questa conclusione, oggettivamente, è molto, molto, molto discutibile. Cosa voglio dire? Lo dico in modo esplicito, senza però voler creare chissà quali storie. Mi viene molto più facile pensare che questo sia un caso di politicizzazione dell'intelligence, cioè per difendere l'operato dell'amministrazione Biden si fa trapelare questa notizia che dice, visto, noi abbiamo dovuto fare, abbiamo dovuto mantenere un approccio molto cauto perché è possibile, per carità, sono molto, molto scelto. Posso aggiungere una cosa? Perché questa cosa qui, questo è uno degli aspetti, secondo me, più drammatici delle amministrazioni democratiche degli ultimi anni, perché si evidenziano tutte le criticità e problematicità di Trump e di quelli a lui vicini, alcuni poi che sono stati anche adesso quello che era l'editor del National Intros, comunque era stato al Nixon Center, che adesso la casa è stata perseguita, come si chiama? Dimitri Smizes. Dimitri Smiles, probabilmente, con delle criticità. Però c'è anche una criticità grossa dal punto di vista della democrazia americana, del Partito Democratico, col suo arruffamento di alcuni dei vertici dell'intelligence e penso a alcuni di questi personaggi che sono molto, molto problematici da McAbee a l'altro Foley a Michael Morell a Draper, mi sembra si chiamasse Clapper, scusate, che va esattamente nella direzione che dice Mauro. Cioè, se questi vertici ex vertici hanno politicizzato tutto quello che potevano per ragioni elettorali, non viene da pensare da dubitare sul fatto che possano anche aver politicizzato l'intelligence solo per giustificare. Che è una cosa molto problematica perché noi nelle democrazie bisogna avere fiducia nelle istituzioni. Cioè, se la polizia viene e mi arresta, io devo essere per fiducia che mi arresta perché ci sono degli indizi. E poi la giustizia, di nuovo indipendente, mi valuterà. La stessa cosa deve fare l'intelligence. Se l'intelligence inizia ad essere partigiana, allora nessuno avrà più responsabilità politica che partigiano ah ma io ho fatto la guerra mica perché volevo io, perché l'intelligence mi ha dato quelle informazioni e diventa molto molto rischi. E purtroppo l'amministrazione Obama ha iniziato quel percorso che non è particolarmente... Allora io non direi che l'ha iniziato l'amministrazione Obama in verità c'era della politizzazione dell'intelligence e dell'intelligence c'è sempre stato però questo è vero però sotto l'amministrazione Obama c'è stato ad un livello abbastanza fuori controllo cioè comunque è il primo caso di un ministro della giustizia sul quale dipende l'FBI che ha avuto questo vote of contempt quindi una sorta di censura dal congresso non è mai successo nella storia degli Stati Uniti che un ministro... Sì sì ok direi se noi pensiamo al failure dell'intelligence con l'Iraq insomma era un altro caso Però sì fair fair cioè possiamo vederlo in maniera diversa comunque c'è stato iniziato una dinamica che non è particolarmente esaltante e quello che io chiamo quello di cui stiamo parlando è quello che io da ormai più di dieci anni chiamo l'italianizzazione degli Stati Uniti cioè io mi sono trasferito negli Stati Uniti che era 2006-2007 ho vissuto lì per nove anni io e Andrea ci eravamo stati parecchie volte prima di allora era un paese che insomma parliamo dell'amministrazione dell'era dell'amministrazione di Bush era un paese comunque molto diviso proprio per via della politica estera in particolare dell'amministrazione Bush ma comunque nel quale le istituzioni non erano ancora parte della controversia politica cioè quando noi pensiamo a un politico come McCain McCain è stato sempre estremamente rispettoso delle istituzioni cioè quando ha perso ha detto fino a ieri era il mio avversario oggi è il mio presidente e questa dinamica cioè questo aspetto questo punto di forza del sistema americano io nei nove anni in cui ho vissuto negli Stati Uniti sono andato via che era il 2016 ho visto la progressiva italianizzazione cioè è venuto sempre meno e oggi la vediamo appunto insomma addirittura è arrivato oltre con cosa era successo il 6 di gennaio ecco questo per per contestualizzare dico un'ultima cosa e poi possiamo cambiare argomento giusto perché andrà a aver toccato un punto molto importante che va per me enfatizzato quando parliamo delle punti di forza e punti di bolezza rispetto a una potenziale a un potenziale chiamiamolo potenziale pace no accordo con la Russia sulla base di tutto quello che noi abbiamo detto adesso Trump ha un punto di forza che non è non è un merito non gli sto facendo i complimenti voglio essere chiaro ma un punto di forza in inglese bargaining nelle trattative che viene dalla teoria dei giochi ed è potere negoziale esattamente grazie esattamente potere negoziale che deriva da una cosa che aveva capito Schelling Schelling premio Nobel per l'economia nel 2005 se non ricordo male per i suoi lavori su teoria dei giochi teoria dei giochi che è stata fondamentale per capire tutta la deterrenza concettualmente la deterrenza nucleare la deterrenza in generale e Schelling diceva nel in una fase di appunto di negoziato o comunque di competizione essere apparire estremamente irrazionale può essere molto molto può essere un vantaggio cioè perché se tu apparire irrazionale l'altro dice no aspetta io con questo devo scendere a un compromesso questo è quello che viene io ne parlavo sempre con il nostro compianto Franz Forti parlavo appunto quello che si chiama in inglese game of chicken in italiano ho un'altra traduzione che non ricordo che però non è il gioco del pollo ed è la scena tipica che si vede nel film dove ci sono i due macci che sono in una macchina uno di fronte all'altro vanno a tutta velocità uno verso l'altro e alla fine uno dei due sarà costretto a sterzare a destra generalmente per evitare la collisione e questo qua è quello che perde perché è quello che un po' se l'è fatta sotto ecco scegli in cosa dicendo un tipo di competizione come quella se tu prendi il volante lo togli e lo butti fuori dalla finestra e acceleri a tutta velocità il tuo avversario dice beh lui non ha scelta lui ha tagliato le cosiddette exit option e quindi sono io che sono costretto a sterzare Trump nel suo essere per me non del tutto involontariamente insomma il personaggio poi lo possiamo valutare e criticare ci sono tante ragioni per criticarlo ma per me parte del suo personaggio pubblico che su lui si crea calcisticamente mi ricorda per alcuni dati un po' Murigno cioè lui vuole dare quest'idea della persona irrazionale che in parte per me anche perché sa che questo può aiutare poi di nuovo parte dell'irrazionalità è proprio invece sua abilità non la giustifichiamo c'è anche un precedente diciamo che risale a Nixon questo lo voceva notare Peter Baker che è diciamo il capo dei corrispondenti del New York Times alla Casa Bianca che commentando proprio i toni di Trump diceva guardate anche Nixon aveva creato la strategia per cui sostanzialmente Kissinger andava spesso dagli alleati o dagli interlocutori dicendo guardate che Nixon è un po' matto quindi io provo a tenerlo sotto controllo ma in realtà insomma dovete fare un po' quello che dice lui perché è imprevedibile in quel caso chiaramente era una stanza per cui Nixon non era imprevedibile rispetto al pubblico ma lo era diciamo nelle relazioni diplomatiche diciamo segrete in qualche modo dietro le quinte Trump incarna il personaggio che è imprevedibile sia per il pubblico sia potenzialmente anche per per gli altri attori ed è chiaramente interamente possibile che sia una posizione e integro questa cosa aggiungendo questo che non sia interessante soprattutto per il pubblico che magari segue meno i media ucraini o i media diciamo filoamericani come per esempio Radio Free Europe che è sostanzialmente uno dei in senso tecnico uno dei megafomi della propaganda occidentale poi si può considerare in tanti termini ma esprime proprio spesso le visioni diciamo di una certa parte dell'establishment americano quella più antirussa e più pro-Ucraina quando si fanno le analisi su appunto il futuro dell'Ucraina con Trump c'è molto meno terrore di quello che c'è rispetto insomma ad altri ad altri analisti questo mi ha sempre diciamo stupito perché sembra che anche le dichiarazioni di Trump più come dire più inflammatory non saprei come dire in italiano non so più controverse anche appunto sul forzare la pace spaventino alcune parti del governo ucraino al di là di quello che viene detto diciamo in pubblico meno di quello che sembra sulla base di una continuità storica c'è un articolo proprio di qualche giorno fa di Radio Free Europe dove paragonando appunto Biden diciamo la politica di Biden e quella di Trump si calca moltissimo la mano sul come dire sull'underperformance di Biden rispetto agli aiuti dati all'Ucraina che l'ultimo pacchetto da più di 60 miliardi è arrivato soltanto in piccola parte quindi si criticava quasi molto più Biden per aver come dire dato meno di quello che aveva promesso rispetto alle dichiarazioni di Trump facendo anche notare appunto come faceva notare anche Andrea prima che comunque nell'ultima presidenza Trump l'Ucraina è stata sostenuta parliamo di prima della guerra ma che appunto diciamo l'atteggiamento della prima presidenza Trump rispetto all'Ucraina non era stata meno di supporto rispetto a quello Obama se non addirittura più di supporto quindi il tema diciamo tra aspettative in realtà è un pochino complicato questo lo dico per chi ci ascolta e anche avendo insomma conversazioni con analisti ucraini o comunque con membri di think tank ucraini si faceva sempre leva sul fatto che Trump era stato già presidente e comunque era stato vicino all'Ucraina allo stesso tempo fanno notare alcune analisi che c'è una parte dell'establishment di Trump che potenzialmente potrebbe far parte delle squadre di governo oppure l'ex secretario di Stato Mike Pompeo che potrebbe essere segretario della difesa quindi tutti i personaggi che comunque sono storicamente tra virgolette insomma sia dei falchi diciamo sulle sanzioni alla Russia eccetera eccetera quindi questo per dire che completamento l'integrazione delle riflessioni tra l'altro ricchissime di Andrea Mauro è meno lineare di quello che sembia cioè pensare Trump non aiuterà più l'Ucraina e con Harris il mondo sarà salvo probabilmente una semplificazione io aggiungerei un punto a quanto hai appena detto che può essere difficile insomma per me da dire e altri da accettare la situazione dell'Ucraina purtroppo non è facile quindi quando noi consideriamo quali saranno le opzioni di una futura amministrazione americana democratica o repubblicana va considerato che è una situazione molto molto difficile perché il tempo comunque sia non gioca a favore dell'Ucraina questo l'abbiamo sempre detto c'è chi dice beh aspetta se noi ci spostiamo dal breve periodo al medio cioè se la guerra si protrae per un paio di altri anni allora lì le sanzioni inizieranno ad avere molto più efficace i problemi dell'economia della società russa diventeranno molto più evidenti e allora la Russia avrà problemi possibile però noi sappiamo che comunque la Russia ha un vantaggio quantitativo su tutti i parametri che possiamo guardare sull'Ucraina e questo è importante perché perché non voglio fare paragoni con l'Afghanistan perché appunto non ci sono paragoni però c'è una traiettoria che quella è e quindi la questione per le due presidenze è come gestire questa situazione cioè inevitabilmente a un certo punto si dovrà arrivare a che sia un accordo che sia un cessato sicuramente quello del diamo col contagoccia appena con dei ritardi ma rimaniamo molto manteniamo il supporto per l'Ucraina ecco questa strategia non ha funzionato e non può continuare a funzionare cosa farà Trump è difficile da dire sicuramente la traiettoria è la stessa per entrambi è possibile che Trump tenti di forzare un accordo prima assolutamente sì anzi è molto più probabile che lo faccia Trump che è un'amministrazione democratica da questo punto di vista quindi se noi vogliamo considerare in termini territoriali l'Ucraina sarà costretta a cedere più territorio adesso con un'amministrazione repubblicana rispetto a fra un paio di anni con una democratica questo sì dico è più probabile purtroppo di nuovo la traiettoria è una traiettoria che lascia posso tornare su questo poca margine di maniera alla presenza c'è il vantaggio che ha Trump però di poter in inglese dice enforce quindi poter eseguire un eventuale accordo cioè se anche oggi Putin dicesse io mi ritiro e non attacco più a quel punto bisogna dare delle garanzie certe all'Ucraina che domani Putin non possa riattaccare cioè bisogna dire ok adesso io ti do per esempio tutte le armi del mondo così che appena questi passano di un millimetro li potete bombardare fino a 500 chilometri e non possono fare nulla Biden e Henry non hanno questa forza politica perché non l'hanno mai voluto fare Trump magari dice all'Ucraina devi accettare una perda del 10-20-30% del territorio però potenzialmente non lo so può anche avere la forza politica di dire ad entrambi guarda che questo accordo qua vale e appena tu fai un passo sbagliato tutto quello che c'è nell'arco di 300 chilometri viene distrutto questa teoria del pazzo di cui parlavamo prima ha un valore che secondo me la strategia americana che Mauro e anche io prima criticavamo è il prodotto anche della non volontà di un meccanismo di esecuzione di una pace potenzialmente escalatorio perché secondo me alla base c'è un po' c'è un po' questo però magari volevi passare alla Cina perché ci siamo soffermati parecchio su questo tema tanto vi ringrazio insomma poi chiaramente per chi guarda insomma commentate perché questo è un tema che rimarrà caldo anche post elezioni e magari se è un tema di particolare interesse visto che appunto il cosa succederà con Trump in particolare è un tema apertissimo come si vede dopo le elezioni insomma se gli spettatori interessa sicuramente interessa ci possiamo rivedere e ragionare diciamo sugli scenari con il presidente che sarà eletto quindi direi passiamo in chiusura anche per non levare troppo tempo insomma ai nostri ospiti agli ultimi due teatri che volevamo trattare io per stare in continuità con il primo tema trattato che ha appunto Israele e Libano e Palestina direi andiamo magari sull'Iran l'Iran è come dire forse nel caso di Trump è il nemico dichiarato numero uno se lo paragoniamo agli altri due rivali alla percezione diciamo dei discorsi di Trump della Cina e della Russia però chiaramente anche nel discorso democratico non è certo soprattutto per i sossegni Israele insomma che è abbastanza bipartisan non è certo sottovalutato mi sembra che per Trump però la minaccia nucleare sia un tema più ricorrente rispetto insomma ai temi che pongono invece Biden e la Harris come la vedete voi e diciamo la domanda principale che vi faccio è vedete o ci sarebbero secondo voi realisticamente differenze sul dossier Iran considerando che non ne vedete tantissime sul dossier Israele paradossalmente la situazione ora è tale per cui anche qua vedo poche differenze ma per ragioni opposte ovvero che l'Iran è stato talmente tanto indebolito nell'ultimo anno e adesso arrivo al punto in sostanza questo aspetto per cui allora non voglio dire che la minaccia non ci sia più perché la minaccia rimane ma è per me molto più gestibile per gli Stati Uniti insomma e probabilmente da questo punto di vista l'amministrazione Trump sarebbe felice di delegare la questione a Israele quando dico che l'Iran è stato indebolito mi riferisco al fatto che bisogna capire come la strategia politico-militare iraniana almeno dal 2000 tra questa parte ai nostri giorni si è basato sull'uso di proxies cioè di attori non statali che potessero agire da deterrenza fa un po' parte di quello che nel nostro campo si chiama stability-instability paradox cioè l'Iran ha capito che dopo la guerra del Nierak nel 2003 ha capito che non c'era modo di resistere un attacco militare americano occidentale quindi la debolezza la disparità di capacità militari era tale per cui non c'era modo di opporsi allora l'Iran ha fatto una cosa molto intelligente dal punto di vista strategico ha detto bene noi aumentiamo ulteriormente il supporto a Hezbollah stringiamo i rapporti con Hamas nonostante Hamas non sia fita e poi con la questione degli UTI ha detto iniziamo anche a fornire aiuti a un altro gruppo terzo quindi questi tre gruppi terroristici hanno rappresentato uno strumento estremamente efficace di deterrenza da parte dell'Iran perché l'Iran poteva dire nel caso in cui voi vogliate fare qualcosa di scomodo noi abbiamo sempre modo di colpire innanzitutto Israele ma poi anche altri alleati l'Arabia Saudita con questi gruppi non statali che essendo tali sono molto più difficili da sconfiggere in un conflitto armato e questa cosa direi che ha funzionato ha funzionato fino al 7 ottobre perché con il 7 ottobre direi non credo di dire nulla di sconvolgente il governo Netanyahu ha detto la questione dei di Hamas e adesso anche di Hezbollah noi la risolviamo una volta per tutte cioè l'approccio del governo Netanyahu è stato questa cosa qua non succederà mai più e loro sostanzialmente che vogliano obbligare la parte della popolazione palestinese ad andarsene completamente da Gaza e anche da parte della Cisgiordania che vogliano fare una strage l'obiettivo questo io non lo so i dati parlano cioè quello che le foto della distruzione parlano molto chiaro e parte di questa distruzione però ha colpito non solo purtroppo la popolazione civile ma ha colpito anche la struttura organizzativa di Hamas e Hezbollah insomma non dico di nulla che non sappiate nulla di controverso esattamente quindi ho e qua conclude la show ad Andrea quindi ora paradossalmente la inoltre scusate gli attacchi israeliani sul territorio iraniano hanno insomma hanno dimostrato che Re è nudo ci hanno detto quello che tutti noi sapevamo che ci occupiamo di potere aereo di sistemi di difesa antiaereo ovvero che penetrare lo spazio militare lo spazio aereo iraniano non è un problema per il GF35 che ne dica Carlo Orsini e questo quindi rende l'Iran vulnerabile anche ad incursioni militare aeree da parte sia italiano o americano e quindi ora l'Iran si trova non più con un vantaggio strategico ma in una situazione di forte svantaggio perché sa che può essere colpito senza la possibilità di rispondere e mi interrompo non so se se andrà a voler io non sono d'accordissimo sulla cosa della continuità perché secondo me la politica Trump Biden sull'Iran e c'è una differenza di continuità tu hai detto che non c'erano troppe differenze però magari non ci sarebbero in futuro non ci sarebbero in futuro secondo me il punto che è forse la differenza concettuale su tutti i teatri tra Trump e Biden o meglio Trump e Obama Biden Harris e la differenza è che Trump chiede impone dei costi agli avversari per ottenere da questi delle concessioni sfruttando anche i rapporti con gli alleati Obama Biden e immagino Harris fanno esattamente l'opposto cercano delle concessioni dagli alleati per trovare un accordo con gli avversari e sull'Iran la cosa è più evidente perché quello che aveva fatto Trump era mettere delle sanzioni contro il paese per via del suo programma nucleare per via delle vittime americane che l'Iran ha fatto in migliaia e poi se continuiamo anche le persone uccise da Hezbollah o dalle milizie sciite di vent'anni parliamo di decine di migliaia di persone potenzialmente forse anche centinaia se includiamo la guerra civile siriana e la politica di Trump è io metto le sanzioni e questi do un colpo economico devastante fin quando o questi non cambiano comportamento oppure magari non crollano l'amministrazione Biden ha fatto esattamente l'opposto la prima cosa che ha fatto è stato togliere le sanzioni e a mio modo di vedere poi uno può pensare che gli obiettivi politici di Trump non fossero raggiungibili però il problema è che quando ci sono delle sanzioni in atto se le togli devi trovare un obiettivo da raggiungere questo è stato l'errore principale dell'amministrazione Biden e immagino che un'eventuale amministrazione Harris andrebbe un po' nella stessa direzione cioè cercare comunque un compromesso con un attore che attivamente sta cercando di attaccare i tuoi alleati indebolire la tua posizione sfidarti continuamente e da questo punto di vista penso che ci sia la potenziale maggiore differenza sono d'accordo che l'Iran è stato notevolmente indebolito il cambio di paradigma principale penso sarebbe che se viene eletto Trump Trump la prima cosa che fa mette altre sanzioni o nuove sanzioni all'Iran e probabilmente darebbe ancora più mano libera nell'attaccare le posizioni iraniane che si trovano in Iraq in Siria in Libano ed eventualmente anche nel paese cosa che dubito la Harris probabilmente farebbe c'è un bell'articolo di foreign policy che è una meta analisi dei pareri di vari studiosi che poi lascio al nostro pubblico dove sostanzialmente si comparano le probabilità di certi scenari o di certi eventi se vince Trump o se vince Harris chiaramente come dimostra questa discussione sono sempre previsioni che lasciano il tempo che trovano secondo che sono interessanti per capire qual è il consenso diciamo fra gli analisti e sul tema Iran l'unico degli eventi che viene pesato è quello della probabilità che si arrivi a un nuovo accordo sul nucleare che era stato appunto cazzato peraltro dalla presidenza Trump e qui si dice che c'è una probabilità comunque bassa che accada con Harris quindi che si possa arrivare nel tempo a un nuovo accordo mentre questa probabilità è quasi nulla con Trump e per il resto non vengono fatti altri rilievi non so se su questo avete un commento ma credo che sia un po' diciamo già deducibile da tutto quello che avete già detto altrimenti ci possiamo spostare sull'ultimo dossier che è la Cina sì il mio commento è solo per me la differenza è proprio questa che di Iran ora è in una situazione di debolezza tale per cui c'è poco da cambiare però ecco è un po' come dicevi tu parte di quello che abbiamo già discusso ogni demo ovviamente questo lo dico per chi ascolta cerchiamo i podcast di due tre ore su questo ti vorrei parlare veramente per ore diciamo commentate perché chiaramente in base ai temi di maggiore interesse insomma andremo a se saranno disponibili a disturbare Andrea e Mauro anche in futuro perché insomma saranno mesi complessi per cui la loro interpretazione insomma sarà molto importante per interpretare gli eventi futuri andiamo sull'ultimo tema l'ultimo tema come dicevo non in diciamo non perché è l'ultimo tema importante ma è diciamo è l'ultimo dei temi importanti selezionati che è la Cina anche qui diciamo su ognuno di questi quattro temi le dichiarazioni forti sono quasi sempre diciamo anche le mosse forti sono spesso di Trump no? più che di di Harris che non è stata la Presidente o di Biden di Trump che ha parlato diciamo abbiamo ore e ore di discorsi di Trump sulla Cina anche insomma a volte abbastanza comici ma insomma il gesto forte è stato un aumento delle tariffe che è stato anche molto popolare politicamente e che Biden non ha ricusato nel senso che l'aumento delle tariffe su alcuni beni che Trump ha effettuato durante la sua presidenza diciamo non è stato non ha subito un'inversione di rotta con Biden quindi da questo punto di vista insomma c'è anche un elemento di continuità a questo punto vi chiedo vedete qui un elemento di grande differenza tenendo conto che lo dico per il pubblico ad esempio appunto Peter Baker del New York Times dice che forse mentre Ucraina e Russia sono il tema su cui c'è più divisione il tema Cina è quello su cui c'è apparentemente più allineamento se non sul tema dei diritti umani dove chiaramente Trump sembra ignorare totalmente il tema per esempio degli Uiguri mentre quanto meno e più meco timidamente le durace democratiche la stessa Harris ha continuato quantomeno a portare avanti alcuni discorsi prego sì qua secondo me c'è effettivamente maggiore convergenza di visione di policy in generale gli Stati Uniti ritengono di nuovo interessante perché c'era Obama e si pensava a una sorta di grande concerto delle potenze all'insegna del multilateralismo e della ritirata strategica americana dal mondo che avrebbe permesso con la diplomazia verso l'Iran verso la Russia verso la Cina una maggiore cooperazione perché questo era il piano di Obama quando fu eletto nel 2012 è chiaramente fallito nel senso che in quel periodo Cina Iran e Russia sono diventati non solo più forti ma hanno anche cercato di indebolire attivamente l'equilibrio regionale agli Stati Uniti e venne eletto Trump che quindi nel suo primo documento della National Defense Strategy del 2017 dice siamo in un'era di Great Powers Competition tutti i supporter di Obama insorgono dicendo che questa cosa era gravissima che favoriva la crisi internazionale poi quando è arrivato Biden ha cambiato Great Powers Competition con Strategic Competition cioè per ragioni di politica interna doveva dare un'etichetta diversa ma il vino che c'era nella bottiglia esattamente lo stesso e quindi sono abbastanza accordo io penso che detto ciò dei possibili cambiamenti differenze riguardano in primo luogo la credibilità della deterrenza che è dovuta secondo me ai due personaggi ovvero Trump ha dalla sua questa teoria del pazzo che da qui faceva accenno prima Mauro che poi è stata rivendicata da Trump qualche giorno fa in questo cipiaparietto in cui parlava di Bolton il suo ex ambasciatore all'ONU che non so se avete visto che oggettivamente è abbastanza esilarante se non fosse triste perché letteralmente dice Bolton era questo ex funzionario dell'amministrazione Bush un famoso neocon se cercate il video Bolton Trump dice he was a total moron in italiano verrebbe tradotto era un idiota totale anche un coglione e dice questo era così stupido che andava in giro e minacciava guerra ovunque ma io non l'avrei mai preso se avessi saputo che era un tale idiota però me l'hanno suggerito ma paradossalmente mi ha anche servito perché andava la Corea del Nord e dice noi gli faremo guerra e quindi poi quando arrivavo io avere lui prima mi rendeva tutto più facile perché loro poi volevano negoziare con me poi dice una cosa tipo poi quando ho capito che era davvero così scemo l'ho dovuto licenziare chiaramente Bolton è uno di quelli che dice che non bisogna votare per Trump perché è una minaccia eccetera quindi da qua si deriva la posizione però questo è interessante e secondo me la forza di Trump è che la sua l'incertezza dovuta alle sue politiche gli dà un vantaggio in termini di deterrenza cosa che purtroppo l'amministrazione Biden ha perso per un mix di decisioni avventate affrettate cioè togliere le sanzioni alla Russia togliere le sanzioni all'Iran il ritiro dall'Afghanistan così affrettato e questo ha indebolito poi c'è stata la questione della stabilità e della presidenzialità se vogliamo di Biden cioè da quanto tempo Biden prende o non prende decisioni chiaramente non ha rafforzato e se quello che un po' tutti pensano ovvero che buona parte delle decisioni sono state delegate è ovvio che chi prende decisioni per lui che sia il National Security Advisor che sia il Ministero della Difesa o il Ministero degli Esteri è ovvio che deve essere per sua natura molto più cauto perché sta prendendo delle decisioni invece di qualcun altro io temo però che Kamala Harris per via di tutte le tensioni che c'è dal suo punto di vista nella sua electoral constituency possa pagare un po' questa debolezza d'immagine eventualmente e quindi potrebbe essere testata dall'inizio dai suoi potenziali avversari nel qual caso la Cina ciò non vuole dire che non sarebbe in grado di gestirla ma non mi stupirei se Cina in concerto magari con la Russia volesse nel caso di un'elezione di Kamala Harris volesse vedere fin quanto sono pronti a rischiare cosa che almeno all'inizio una presidenza Trump come problema non ce l'avrebbe bisogna sempre gestire la questione dell'ascesa della Cina e dico l'ultima cosa e poi chiudo perché qua sull'ascesa della Cina però secondo me un merito l'amministrazione Biden ce l'ha e probabilmente anche in parte Obama perché se noi guardiamo la politica estera degli Stati Uniti negli ultimi 15 anni rispetto alla Cina mi sembra che la teoria di fondo sia stata la seguente la Cina adesso sta in ascesa economica tecnologica militare ma il mix di comunismo di clino demografico di struttura della società dopo un po' porterà una decelerazione della crescita che quindi poi renderà la minaccia militare meno acuta e quindi se noi riusciamo a superare senza una guerra senza uno scontro militare questa fase poi sarà più facile e finora devo dire i problemi nella crescita economica cinese li vediamo da un paio d'anni da dopo il covid se alla fine non si andrà ad una guerra il merito dei democratici da questo punto di vista va riconosciuto in cui Trump ha operato con una certa continuità e forse ha rafforzato quella politica con le sue sanzioni tecnologiche aggiungo una domanda che credo che sia anche utile a chiusura quindi mi sembra da queste conversazioni che ci sia proprio un elemento di credo che tu chiami di deterrenza rispetto a Trump è quasi un elemento di maggiore come dire statura o quantomeno credibilità della politica estramericana nello scenario Trump in qualche modo proprio per l'elemento di imprevedibilità cioè in qualche modo questa imprevedibilità che poi sia reale o percepita diciamo dà un maggiore peso alle mosse dell'America rispetto alle più prevedibili mosse rispetto agli avversari questo è l'aspetto centrale cioè verso gli avversari che sono paesi non democratici e che bisogna essere chiari sono paesi che capiscono solo il linguaggio della forza verso questo tipo di paesi avere un personaggio che può apparire imprevedibile e quindi anche minaccioso paradossalmente può dare un vantaggio chiaramente vediamo l'esatto opposto rispetto ai paesi europei perché rispetto ai paesi europei soprattutto verso l'illite europea avere uno come Trump che arriva in modo rozzo no e insulta usa toni fuori posto è imprevedibile cioè appunto pensiamo anche all'Ucraina tutta la gestione dello scandalo di Hunter Biden no come aveva tentato di usare cioè sono tutto un insieme di elementi che vanno a disturbare non vanno ad aiutare anche quando tu hai una macchina oliata come quella della diplomazia e della sicurezza europea che insomma ha determinati protocolli ha determinate procedure e tu invece hai uno che un giorno tenta di sfruttare al suo vantaggio l'Ucraina il giorno dopo gli dà le armi tre giorni dopo dice a Putin che siamo i migliori amici quindi questo è molto molto difficile da gestire quindi sì da questo punto di vista mi sento di dire che è un po' uno dei paradossi della strategia che appunto è quello che menzionavo prima per quanto riguarda il punto centrale e sono d'accordo con quello che dice Andrea e incluso quello che già dicevi tu sulla Cina le differenze sono molto limitate per una serie di ragioni per me un articolo che vale la pena leggere quello che cercavo prima è un articolo pubblicato mi sembra nel 2018 su Foreign Affairs da Campbell e Rathner mi sembra si chiama The China Reckoning ce l'avevo qua fatemi vedere no chiuso mi sembra però quello sia il titolo comunque poi ti mando lì esattamente è un articolo interessante perché fa una la seguente questi sono Rathner era ed è stato nell'amministrazione sia Obama che poi in quella Biden nel dipartimento della difesa al Pentagono mi sembra con incarichi verso l'estasia e la critica che fanno è la seguente dicono la politica estera americana verso la Cina dalla fine della guerra fredda si è basata su un assunto su un presupposto ovvero quello che dall'esterno noi saremmo riusciti a plasmare l'interno della Cina cioè con la crescita economica avrebbe creato una classe media la classe media avrebbe poi chiesto più diritti quindi allo stesso tempo noi obbligando la Cina a firmare trattati sul rispetto dei diritti umani avremmo creato una società civile che chiedeva insomma noi saremmo riusciti a trasformare la Cina in qualcosa che è sempre più a nostra immagine e somiglianza e dicono bisogna essere chiari abbiamo fallito perché nel nostro quello che noi pensavamo fosse la nostra strategia in verità è stata usata dalla Cina a sua volta e qua aggiungo io cioè la Cina cosa ha fatto dalla fine della guerra fredda in avanti in verità l'aveva già iniziato a fare prima ha detto noi abbiamo un grande vantaggio che è un potenziale mercato domestico immenso una popolazione molto larga ed è una serie di aspetti che attraggono le aziende straniere e noi usiamo questo per sviluppare la tecnologia interna cioè la Cina aveva tutta questa strategia per cui vuoi avere accesso al mercato domestico insomma non l'ha inventato la Cina per dire però la Cina diceva vuoi avere accesso al mercato domestico benissimo tu devi fare transport technology agreement cioè crei una joint venture con un'azienda locale e insegni ai lavoratori che fa cose e la Cina in questo modo è riuscita a svilupparsi dai treni ad alta velocità Huawei insomma tutto quello che sappiamo è il punto certo dal direi dal 2012 con quando la nuova presidenza cinese è iniziato a diventare la cosiddetta militarizzazione delle isole nel mare meridionale del sud cinese e poi ancora di più direi dalla pandemia è diventato chiaro a tutti come la Cina è una minaccia e ora non è più una questione è una minaccia o no la risposta è sì è una minaccia come va gestita da questo punto di vista per me è interessante la divergenza tra l'establishment nell'ambito di politica estera e di difesa americano quello democratico e repubblicano perché la differenza centrale tra i personaggi di spicco dei due campi è la seguente quelli che sono a favore di difendere l'Ucraina dicono è fondamentale difendere l'Ucraina perché noi in questo modo mandiamo un messaggio a Pechino relativamente a Taiwan quindi è una questione in teoria dei giochi si chiama di segnali signaling noi facciamo vedere che noi siamo assolutamente impegnati alla difesa dei nostri alleati chi si oppone o comunque solleva molti dubbi sulla fornitura di armi all'Ucraina tipo Colby che menzionavamo prima ma ci sono tanti altri si preoccupano anche loro della Cina ma per ragioni opposte a quelle del campo democratico cioè loro dicono proprio perché noi dobbiamo difendere Taiwan abbiamo un problema di scarsità di risorse cioè noi non abbiamo abbastanza munizioni sistemi di difesa antiaere tutto quello che volete per poter difendere sia l'Ucraina che Taiwan se noi diamo queste armi all'Ucraina poi rischiamo di non avercene per Taiwan e quindi Taiwan non potrà difendersi quindi per loro non è più un problema di segnalare la volontà ma è un problema di capacità di difendere e questo è molto interessante perché tutti e due i campi dell'establishment democratico e repubblicano quindi guardano entrambi a Taiwan e quindi e di nuovo come farlo poi divergono magari sui modi ma che quello sia il teatro principale per la politica di difesa e sicurezza americana dei prossimi decenni non c'è assolutamente dubbio posso dire una cosa brevissima a proposito perché io faccio prima di lasciarvi fare anche un po' l'intervento conclusivo aggiungo perché non l'avevo citato sempre tornando sulle dichiarazioni ovviamente Trump anche sul dossier Taiwan ha detto ovviamente con la mia presidenza la Cina non attaccherà mai Taiwan e da questo punto di vista io chiaramente insomma rischiate di andare nel comico ma per dire che poi le dichiarazioni poi elettorali comunque anche di Trump contano in qualche modo cioè lui in qualsiasi scenario si pone come quello che non permetterà all'avversario o all'alleato di fare errori e di andare in escalation con la sua sola presenza e come dire il ragionamento che faceva Mauro sui testali secondo me è molto significativo nel senso che anche sulla questione ucraina Trump la vede in maniera molto strumentale cioè forzo la pace se mi serve non è interessante la questione territoriale perché Trump ha la libertà del pragmatismo sostanzialmente a differenza dei democratici che devono spesso fare appello ai principi quindi sul dossier Israele può disinteressarsi della questione della popolazione palestinese e dire Israele è un problema di public relations ma lo risolvo io sull'Ucraina idem dice se devo forzare gli accordi di forzo sia con gli ucraini sia con la Russia e mi sembra anche che sulla Cina la logica sia simile nel senso totale pragmatico cioè a me sembra che il grande vantaggio che Trump ha e insomma volevo aggiungere questo per permettere di integrarlo nel tuo ultimo intervento Andrea è che la grande forza che ha l'establishment repubblicano ma in particolare Trump con la sua comunicazione è alla forza del pragmatismo sostanzialmente sì sì assolutamente unita all'imprendibilità non mi ricordo se in quella fase in quella sketch su Bolton o in un altro caso Trump diceva che quando ha visto Putin una delle prime volte o forse l'ho letto su Wall Street Journal non mi ricordo comunque quando ha visto Putin la prima volta gli ha detto non provare ad attaccare l'Ucraina perché se tu attacchi l'Ucraina io tirerò giù tutte quelle come si chiamano i domes dei duomi di Mosca che dove vive Putin ah le gugole di Mosca esatto le gugole ecco e cioè il punto è tutti tu saresti uno dice questo qui è davvero fuori di testa ma puoi escludere che questo davvero non lanci un attacco su Mosca e gli altri dicono ok calmiamoci e purtroppo è la debolezza dell'amministrazione Biden e dei democratici in generale che vogliono far vedere di essere persone mature che ragionano che cercano di arrivare al dialogo però purtroppo un punto fondante della politica internazionale è che non puoi essere ragionevole con chi è ragionevole e non puoi essere un galantuomo con chi cerca di accoltellarti e Trump da questo punto di vista è molto efficace a mio modo di vedere però perché parla la loro lingua parla la loro lingua esatto se tu sei un bullo e ti trovi in una stanza piena di bulli i bulli non ti attaccano cioè ti riconoscono come un loro padre esatto non è con i modi da Eton o da Oxford che ne esci fuori e dire io non alzo le mani sì dopo che ti hanno menato di botte non è particolare una grande conquista l'ultima cosa che volevo dire dove qua secondo me c'è da riconoscere che l'establishment democratico ha avuto dei successi però mentre Mauro diceva della Cina eccetera volevo ricordare brevemente la questione di AUKUS dell'accordo Stati Uniti Gran Bretagna e Australia prima sui sottomarini che poi è stato anche espanso alle nuove tecnologie per cercare di contenere la Cina che è un esempio di un caso nel quale la politica americana cioè se Trump avesse fatto una roba del genere avremmo avuto ne parleremo ancora oggi in Europa della pugnata alle spalle perché il pregresso è che c'era un accordo in essere tra Australia e Francia sulla fornitura di Stati Uniti di sottomarini che l'Australia ha cancellato per entrare in questo nuovo accordo senza dire nulla senza dire nulla è un accordo che ha preso arrivare a questo accordo per la costruzione congiunta di sottomarini tra Australia e Francia cioè la Francia aiutava l'Australia aveva preso non mi ricordo quanti anni c'era stato l'asta pubblica l'hanno vinto era un accordo firmato più di dieci anni fa era stato nel 2016 sì era stato firmato iniziava prima iniziava molto prima era l'accordo definitivo però era 2015 e 2016 però sì il processo era molto prima in una soleggiata giornata di agosto di fine agosto dichiarazione pubblica dell'Australia c'era Australia era non sapeva come far a dire alla Francia guarda che noi siamo sui casi di quella che di quello che è andato al proprio matrimonio c'è il messaggio di quella che gli dice guarda non venire perché sono mi sto sposando con il fotografo esattamente esattamente e quello sono d'accordo l'avesse fatto un'amministrazione Trump sarebbe stata una roba invece non ha la Francia non l'ha presa bene chiaramente anche per come è stata gestita in retroscena parlavo con una persona informata dei fatti che mi diceva l'unica persona che era conoscente dello sviluppo dell'accordo tra Francia e Australia in quel periodo era in vacanza e quindi qualcosa è andato storto però sì quello sicuramente è stato è un accordo che di lungo periodo sarà fondamentale per garantire la stabilità nell'Indo-Pacifico e questo un'amministrazione Trump avrebbe trovato molte più difficoltà a fare ad arrivare a un tipo di accordo del genere ma anche ne parleremo ancora ad oggi della pugnalata alle spalle di Trump di quanto non è affidabile come alleato se è sempre questo cosa che così va bene abbiamo parlato alla fine per un'ora e venti quindi spero che abbiano riusciti a rispondere abbastanza alle domande siccome come sempre le riflessioni articolate producono sempre più domande però spero che questo permetta anche insomma a chi ascolta di capire anche quanto è complessa quanto è articolata la questione quanto non banali siano anche i ragionamenti su certi scenari come per esempio quello ucraino quindi ci fermiamo vi ringrazio di nuovo ringrazio chi ci ascolta ricordo a tutti appunto di mettere like per aiutarci a divulgare il contenuto ma anche di commentare nel senso che qui sono temi come vedete dove la vera analisi richiede grande competenza ma dove comunque anche gli esperti insomma divergono sulle interpretazioni lo vedrete in particolare insomma se scorrerete le fonti che metteremo in coda al video e chiaramente in base ai vostri commenti la relazione internazionale potrà produrre anche appunto con Andrea Mauro Gilli nuovi contenuti quindi mi raccomando commentate defila vostra criticate riflettete fateci capire se ci sono punti non chiari e faremo il nostro meglio insomma per continuare queste chiacchierate e queste riflessioni io di nuovo ringrazio Andrea e Mauro Gilli per la loro generosità del tempo che ci hanno dedicato in questa domenica mattina peraltro a foca distanza dalle elezioni americane grazie di nuovo e a presto e buona giornata a tutti grazie a tutti saluti a tutti